Data la mia tradizione familiare, io ricordo che qualcuno ha detto non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Aspettiamo e vediamo con fiducia, grazie. Però mi sembra che lei oggi possa sfoggiare un piccolo sorriso in più. C'è questo modo di interpretare anche da parte della provincia, in modo pignolo, ma allo stesso tempo anche accurato per cercare di risolvere il problema. Mi sembra sia già una risposta importante. Sicuramente la fiducia non c'è mai mancata, l'ottimismo un po' meno. Però guardiamo avanti.